e il sito è questo sprayhacker spreaker spreaker.com vi create il vostro profilo e qui c'è scritto la sezione podcast dove mettere podcast poi ci sono le statistiche e poi c'è la monetizzazione scusate se è aperto una cosa che non si doveva aprire qui ecco volevo dire una cosa ecco qua qui ci sono le sezioni podcast ecco dove qui potete caricare il vostro prima il vostro podcast la prima cosa poi il secondo episodio dello stesso podcast ecco e poi qui la monetizzazione dove potete attivare il metodo di pagamento paypal e altre cose ci sono qua poi qui vabbè se qualcuno vuole attivare le campagne sono credo a pagamento quindi non li faccio qui ci sono le statistiche io ho solo download per il momento perché ho iniziato da poco quindi ecco e qui si possono vedere le statistiche ecco quelle che mi interessano sono queste le statistiche e la monetizzazione ecco qua e poi vi faccio vedere come andare a vedere come andare a vedere i podcast ecco li qua ecco li qua cliccando su questa scritta qua ecco qui si vede tutto qui dove inserire i podcast i nostri ecco ecco tutto ecco 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 ecco